Il programma ESOSOFT in generale è caratterizzato da quest'idea della struttura d'alluminio che porta la parte imbottita. Nel caso del letto abbiamo una struttura minima sempre fatta in questa fusione e una scocca che si appoggia su questo letto così pure nella poltroncina abbiamo questa struttura esterna e una scocca imbottita si appoggia a questa struttura. Semplice, riconoscibile, sintetico, semplice perché il disegno più semplice, più asciutto, più diretto è quello che io cerco sempre di fare nei miei progetti. Riconoscibile perché è una sorta di DNA, cioè insistere su un determinato disegno ti mette in condizione, se non altro, di diventare sempre di più un'icona. Non cerco di lavorare per espressione ma cerco di lavorare per sintesi. Non sempre determinate intuizioni avvengono nel momento in cui uno pensa al prodotto cioè non si capisce, non si percepisce l'uso ma diventa interessante perché poi crea una sorta di dimensione di oggetto abbastanza particolare.